Mentre il DS De Solda e la società continuano a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante e mette e cresce la tensione in vista del derby di domenica a Grottaglie, l'ultimo impegno del girone d'andata a preoccupare il tecnico Enzo Maiuri e i tifosi biancazzurri sono le condizioni del bomber Nando Galetti. L'argentino è ancora a riduce dalla botta alla caviglia subita nel match contro la Casertana ma nonostante non sia ancora al top, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Le possibilità di vederlo in campo sono comunque alte. Dopo la partenza di D'Amblè, la rosa brandesina non consente grandi esperimenti in attacco. Proprio per questo la società continua a insistere su Maiella, capocannoniere del girone, ma anche su Pereira. L'argentino è corteggiato da tante squadre, il perché è presto detto, piedi buoni, fisico dirompente e numeri da grande giocatore. Lascia invece ufficialmente il capoluogo Messapico, Facundo Ganci, mai sceso in campo, contratto rescisso e buone possibilità, si mormora, di accasarsi a Racale.